Il giorno dopo l'operazione Croci del Silaro che ha portato all'arresto dell'imprenditore capaccese Roberto Squecco, ulteriori 10 misure cautelari e 22 indagati, emergono altri dettagli dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno con gli agenti della squadra mobile. Uno dei dettagli di maggiore discussione è il provvedimento che riguarda una funzionaria dell'ASL accusata di aver redatto un atto falso ma sotto la lente di ingrandimento è finito tutto il sistema di convenzione ed appalti dei servizi di soccorso ed emergenza. Che ci sia un sistema parallelo allo Stato, un mondo di mezzo in Regione Campania è un dato di fatto che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali sta denunciando ormai da anni. L'episodio che vede coinvolti il titolare di un servizio di soccorso cilentano, una consigliera comunale di maggioranza di Capaccio alla Corte di Franco Alfieri e la responsabile del servizio di urgenza ed emergenza dell'ASL di Salerno è solo uno tra i tanti episodi che la direzione distrettuale antimafia ha portato a termine con gli arresti e i divieti di dimora combinati ed interessa il mondo degli appalti, delle convenzioni su cui ruotano miliardi di euro in Regione Campania. Ricordiamo a tutti che sulle elezioni regionali appena passate è stato presentato un esposto alla Procura di Napoli da parte di Rolando Scotillo, segretario nazionale della Fisi, proprio sull'utilizzo parallelo a modo ufficio di collocamento di stazioni appaltanti. E non è un caso che le vittorie elettorali clamorose in termini percentuali si possono avere solo se si governano sistemi. Su gli affari con le ambulanze e i morti che hanno portato la Procura di Salerno ad arrestare 10 persone interviene anche il segretario provinciale dell'UDC di Salerno Mario Polichetti che chiede al governatore Vincenzo De Luca di pensare seriamente a commissariare l'ASL di Salerno. Sul fronte politico Polichetti si associa alla richiesta del presidente della fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo, che ha chiesto subito una commissione d'accesso al comune di Capaccio Pestum. Sì, diciamo questo come segretario provinciale dell'UDC dal punto di vista politico è importante dare un segnale ai cittadini commissariando l'ASL perché non si può continuare a ripetere che non si sa, cioè non si può far finta di non sapere rispetto a responsabilità così gravi e così serie. Non dimentichiamoci che si amministra danaro pubblico e bisogna dar conto ai cittadini, soprattutto a quelli che soffrono. Come ha già fatto ieri il presidente della fondazione Vassallo, Dario Vassallo, lei chiede una commissione d'accesso. Commissione di accesso agli atti nel pieno rispetto del prossimo, della professionalità, della azione politica che è sicuramente improntata nel rispetto del bene comune, però noi chiediamo di conoscere gli atti amministrativi che sono alla base di questi procedimenti. Grazie. Grazie.